Ciao a tutti sono giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi I tanti fan di Guendalina Tavassi e del fratello Edoardo hanno atteso tanto tempo prima di rivederli all'isola dei famosi Infatti i due fratelli non hanno iniziato dal primo giorno l'avventura con gli altri naufraghi, sono entrati a gara in corso, ma allo stesso modo sono stati accolti al meglio dagli altri concorrenti e hanno anche fatto il bagno di benvenuto sull'isola Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo hanno dimostrato subito di essere decisamente disorientati, non ci stiamo davvero capendo niente, ha detto l'ex Jeffina e il fratello Edoardo ha poi aggiunto, spaisati completamente Tuttavia dopo pochi giorni dal loro approdo in Honduras i due fratelli hanno riservato un colpo di scena Hanno avuto una lunga discussione che segna il primo momento di incomprensione tra i due fratelli Isola dei famosi 2022 Elite Guendalina Tavassi fratello Edoardo Infatti in questa stagione dell'isola dei famosi naufraghi entrano in coppia a Playa Coppiada ma, se eliminati, finiscono per doversi contendere un posto come singoli a Playa Sgamada Il pensiero di non poter continuare il percorso al fianco del fratello ha rattristato molto Guendalina Tavassi, mentre sembra non turbare minimamente il fratello Edoardo Il naufrago, infatti, ha ammesso che non avrebbe problemi a continuare il gioco in solitario, suscitando la fortissima reazione della sorella Isola dei famosi 2022 Elite Guendalina Tavassi fratello Edoardo Se a me scoppiano da te io questa esperienza non la continuo, tu invece mi hai detto che avresti continuato, sei una mea Non hai sentimenti, non ti interessa niente Non c'entra la vincita, è una questione di sentimenti, non ce la farei a stare sola qua senza sapere dove sei finito Uno sfogo in piena regola quello di Guendalina Tavassi a cui è seguito la risposta di Edoardo che ha deciso di non rimanere in silenzio e di spiegare perché non avrebbe problemi a giocare senza la naufraga Arrivando anche a parlare della loro vita privata e a mettere in cattiva luce Guendalina Isola dei famosi 2022 Elite Guendalina Tavassi fratello Edoardo Isola dei famosi 2022 Elite Guendalina Tavassi fratello Edoardo Gli altri naufraghi hanno assistito attonite allo sfogo dei due fratelli, soprattutto alla rivelazione che ha fatto Edoardo, che in questo modo ha messo in dubbio le parole di Guendalina e la sua onestà nei sentimenti Tu non devi entrare nel mio cervello, stai zitta! Se vinci tuo vinco io va bene uguale, ricordati che siamo una squadra! Ma se a casa riesci a non vedermi anche per sei mesi, adesso qua non riesci a vedermi per un mese? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video!